Non c'erano nessuno, non c'erano. No, oggi se non le fa il tempo non le fa il tempo. Un giorno il cognato della mia amica da Patania venimo in città e ci parlava del pedocinto mi dici ma c'è un bagno solo per donne a Trieste? Se io bagno in Europa penso. Ma almeno in acqua vi trovate dei maschi? No, perché? I maschi sono da una parte e noi dall'altra. Venga, però è più per cui c'è. Venga, se li dà quell'acra... No, no, non sta, non deve essere così. Lascia perdere il passato. Il futuro è il futuro perché non lo conosce. Perché? Perché non lo conosce. Beh, è più da mordirne. Non male di tutti questi morti che c'è di questi emigrati, no? Non bagno più pesce. Vai, che ce la fai? Ah! Su, se fosse! Ma così? L'hai dovuto per la palandrina! E' la capora che viene, che va! E' la capora che il mondo, che è ripalta! Sì, sì. Quindi io ce la fai le? Vim. Vim. Vim.